Immagina una vita in cui la tua mente è incrollabile, il tuo spirito indomabile e le tue emozioni sono completamente sotto il tuo controllo. In questo video riveliamo le regole brutali per diventare insensibili, basandoci sulla saggezza senza tempo dei grandi stoici. Cosa succederebbe se potessi governare il caos intorno a te e mantenerti saldo e incrollabile di fronte alle avversità? Questo è il tuo cammino verso il vero potere e la resilienza. Intraprendiamolo insieme. Perché dovresti preoccuparti meno di ciò che pensano gli altri? La verità, guerriero, risiede nelle profondità della natura umana. Credimi, la nostra biologia ci dice che i nostri cervelli sono programmati per cercare l'approvazione degli altri. Questo antico meccanismo di sopravvivenza è profondamente radicato nella nostra psicologia, assicurandoci di adattarci ai nostri gruppi sociali. Tuttavia, questa costante necessità di convalida può incatenarci, soffocando il nostro vero potenziale. Ad esempio, nella società moderna vediamo innumerevoli individui sforzarsi di conformarsi, seppellendo il loro vero io sotto strati di aspettative sociali. Quando smetti di cercare approvazione, sblocchi un nuovo livello di libertà. Diventi immune alle opinioni che prima ti controllavano. Le tue azioni iniziano ad allinearsi con i tuoi valori, non con quelli di qualcun altro. Questa è l'essenza di diventare insensibili, uno stato in cui le opinioni esterne non hanno potere sulla tua pace interiore. Rifletti su questo e ti renderai conto di quante decisioni nella tua vita sono state influenzate dalla paura del giudizio. Perché permettere che altri dettino il tuo cammino? Quando ti preoccupi meno di ciò che pensano gli altri, recuperi il tuo potere. Percorri il tuo cammino senza il peso di opinioni superflue, libero di inseguire il tuo vero scopo. Hai mai considerato l'impatto di essere sempre disponibile? La disponibilità viene spesso confusa con l'affidabilità, ma c'è una sottile linea di demarcazione tra i due. Quando ti rendi costantemente accessibile, diminuisci il tuo valore. Nell'ambito della psicologia femminile moderna, l'attrattiva del mistero è potente. Essere sempre disponibili ti rende prevedibile, e la prevedibilità è il nemico dell'emozione. Ad esempio, pensa all'ultima volta che hai risposto immediatamente a un messaggio. Questo ha aumentato il tuo valore agli occhi del destinatario, o ti ha semplicemente fatto sembrare troppo ansioso? La biologia della natura umana ci insegna che valorizziamo ciò che è raro. Quando ti allontani un po', quando dai priorità al tuo tempo e alla tua energia, diventi una risorsa rara. Questa scarsità comanda rispetto e ammirazione. Non essere sempre disponibile crea spazio affinché gli altri apprezzino la tua presenza. Stabilendo dei confini che proteggono il tuo benessere emotivo, cambi la dinamica a tuo favore, affermando il tuo valore senza dire una parola. Questa strategia è cruciale nel tuo cammino verso diventare insensibile. Ti protegge dallo sfruttamento emotivo e ti dà il potere di concentrarti sui tuoi obiettivi. Cosa succede quando ami qualcuno troppo? Le nostre emozioni possono essere una lama a doppio taglio. L'amore nella sua forma più pura è bello, ma un eccesso può essere dannoso. Quando ami qualcuno troppo, gli dai potere su di te, il che può portare a angoscia emotiva. La psicologia umana rivela che i nostri cervelli possono diventare dipendenti dagli alti e bassi emotivi che accompagnano l'amore intenso. Questa dipendenza può offuscare il tuo giudizio, rendendoti vulnerabile. Ad esempio, nelle relazioni, questo amore opprimente può portare a ossessione, erodendo il tuo senso di identità. Inizia a dare priorità ai bisogni dell'altra persona rispetto ai tuoi, spesso a discapito del tuo benessere. Il cammino per diventare insensibile implica moderare questo amore. Non significa che non dovresti preoccuparti, ma che devi mantenere un equilibrio sano. Amare troppo può portare alla dipendenza, e la dipendenza genera debolezza. I grandi stoici hanno capito bene questo concetto e hanno predicato la moderazione in tutte le cose, incluso l'amore. Non amando nessuno troppo, preservi il tuo equilibrio emotivo, restando centrato e immutabile di fronte alle vicissitudini degli intrighi romantici. Questo equilibrio è cruciale nel tuo cammino verso lo stoicismo, dove il controllo emotivo è fondamentale. Perché è essenziale mettere te stesso al primo posto? Questo non è un atto di egoismo, ma un riconoscimento del tuo valore intrinseco. La nostra psicologia ci dice che l'autocura è fondamentale per il nostro benessere generale. Quando metti te stesso al primo posto, investi nella tua salute fisica, emotiva e mentale. Ad esempio, considera l'istruzione di sicurezza sugli aerei di mettere prima la tua maschera di ossigeno prima di aiutare gli altri. Se non sei al tuo meglio, come puoi davvero aiutare chi ti circonda? Mettere te stesso al primo posto significa riconoscere le tue necessità e aspirazioni. Significa stabilire confini che proteggano il tuo tempo e la tua energia. Questa autocura è un elemento chiave per diventare insensibili. Garantisce che tu non sia influenzato dalle richieste e dalle aspettative degli altri. I grandi stoici credevano nel dominio di sé e capivano che, per condurre una vita piena, bisogna prima avere controllo su se stessi. Mettendo te stesso al primo posto, diventi il maestro del tuo destino, immutabile di fronte alle forze esterne. Questo approccio verso te stesso ti permette di perseguire i tuoi obiettivi con una determinazione incrollabile, un marchio distintivo del cammino stoico. Qual è la vera essenza dello stoicismo e come ci guida per diventare insensibili? Lo stoicismo non riguarda il diventare una figura fredda e distaccata, ma piuttosto il raggiungimento del dominio emotivo e la comprensione della natura delle nostre emozioni. Gli stoici credevano che dovremmo sforzarci di raggiungere uno stato in cui la nostra pace mentale non sia turbata dagli eventi esterni. Questa filosofia ci insegna a distinguere tra ciò che possiamo controllare e ciò che non possiamo controllare. Ad esempio, non puoi controllare le azioni, le opinioni o i comportamenti degli altri né le loro reazioni alle tue azioni o le circostanze che sfuggono al tuo controllo. Tuttavia, ciò che puoi assolutamente controllare è il modo in cui rispondi e reagisci a queste influenze esterne. Questa comprensione è di vitale importanza per diventare insensibili, inteso come il raggiungimento di una forma di dominio emotivo che ti consente di mantenere la calma e la serenità nonostante le pressioni esterne. Concentrandoti su ciò che è sotto il tuo controllo, come le tue risposte emotive e i tuoi comportamenti, conservi la tua energia emotiva e preservi la tua tranquillità interiore. In pratica, questo significa che, sebbene tu non possa influenzare direttamente le opinioni o le azioni degli altri, puoi scegliere come reagire a esse. Puoi decidere di non lasciarti disturbare dalle critiche ingiustificate, dalle aspettative non realistiche o dalle situazioni stressanti, che non puoi modificare. Questo approccio ti permette di evitare che le tue emozioni diventino un campo di battaglia per le influenze esterne e di mantenere un equilibrio interno. Rimanendo centrato e in controllo delle tue reazioni, diventi più resiliente di fronte alle avversità e preservi una pace interiore che non dipende dalle circostanze esterne. Lo stoicismo insegna la resilienza. Si tratta di affrontare le difficoltà con grazia e rimanere saldi di fronte all'avversità. Questa mentalità ti aiuta a rimanere impassibile di fronte al caos che ti circonda, permettendoti di affrontare le sfide della vita con un cuore calmo e stabile. In conclusione, queste regole brutali non mirano a diventare freddi o distaccati, ma a ottenere il controllo sulle tue emozioni. Preoccupandoti meno di ciò che pensano gli altri, ti liberi dalle catene delle aspettative sociali. Non essendo sempre disponibile, crei confini che proteggono il tuo benessere emotivo. Non amando nessuno troppo, mantieni un equilibrio sano e mettendo te stesso al primo posto investi nella tua crescita personale. Questo cammino è sfidante, ma è il cammino dei grandi stoici. Abbraccia questi principi e ti troverai sulla strada verso la vera saggezza stoica. Ricorda, guerriero, lascia un commento qui sotto dicendo sfida accettata, metti un like, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per altri contenuti come questo. Alla prossima! Resta forte e fedele al tuo cammino.